Questa mozione riguarda la necessità di sostenere la richiesta di un aumento o una tantum del contributo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. In una nota l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, sezione territoriale di La Spezia, il Presidente regionale UICI Liguria Arturo Vivaldi e il Presidente territoriale Samuele Marras spiegavano le difficoltà economiche sopraggiunte a seguito della pandemia e l'impossibilità di offrire i consueti servizi di autofinanziamento. Nella nota si diceva che per far fronte alle necessità economiche delle varie associazioni delle diverse sedi Liguri chiedevano alla regione di aumentare un quid, un attantum, il contributo che la regione già adesso eroga a loro favore. Ricordo che queste associazioni territoriali, oltre che a supportare e tutelare le varie persone con disabilità, danno lavoro anche a personale proprio e negli anni hanno creato un indotto, una rete assistenziale alle diverse attività riabilitative. Durante la pandemia queste associazioni hanno collaborato fattivamente al sostegno e al monitoraggio della qualità della vita dei loro associati disabili, creando durante il periodo più duro del lockdown una rete di solidarietà con la Croce Rossa italiana e altre associazioni umanitarie presenti sui vari territori. Quindi considerato che il lavoro e l'impegno del mondo dell'associazione e del volontariato sono una risorsa preziosa per i nostri territori, in quanto favoriscono il benessere delle fasce di popolazione più fragili, la coesione sociale, la solidarietà e garantiscono un valido supporto ai servizi pubblici. Questa mozione vuole impegnare il Presidente e l'Aggiunta regionale affinché venga assegnato un aumento di questo contributo, come richiesto dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Grazie. Grazie consigliere Ugolini. Chiedo se ci sono interventi in discussione generale. non ci sono interventi che cedo la parola all'assessore Cavo per il parere della raggiunta. regione Liguria, al fine di consentire il potenziamento dei compiti istituzionali degli enti nazionali a strutture associative dotati di personalità giuridica di diritto privato che svolgono attività di tutela e di promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap conceda dualmente contributi alle sede regionali degli enti di seguito elencati. Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, associazione nazionale mutilati invalidi di guerra, associazione nazionale famiglie dei caduti dispersi in guerra, associazione nazionale civili di guerra, associazione nazionale mutilati per servizio, associazione nazionale mutilati invalidi civili, ente nazionale sordomuti, unione italiana ciechi, associazione nazionale guida, legislazione di capati trasporti. Telle associazioni si collocano all'interno della rete dei servizi alla persona e in particolare offrono le categorie assistite e non i seguenti servizi. Segretariato sociale, consulenze ai propri iscritti che presentano specifiche necessità in ordine alla propria condizione di bisogno, educazione motoria, attività di socializzazione varie e attività informatica. Considerato che Regione Liguria ha sempre sostenuto gli enti in questione, in quanto gli stessi svolgono un'azione di prevenzione, informazione e tutela delle categorie protette su tutto il territorio Ligure e sono una componente attiva dell'economia sociale della nostra Regione, contribuendo al benessere dei cittadini e delle comunità, appunto Regione Liguria ha sempre sostenuto queste associazioni. Si precisa però che l'erogazione del contributo ai studenti enti è variata nel tempo in base alle disponibilità di bilancio. Comunque dal 2016 al 2019 è stato costantemente il contributo pari a 80 mila euro. Nel 2020 il contributo è aumentato a 90 mila euro. Per il 2021 Regione Liguria ha inteso assegnare un ulteriore contributo, una tantum, di euro 63 mila, ulteriore, preciso, al fine di valorizzare e sostenere le iniziative e le attività svolte durante il periodo emergenziale Covid dai suddetti enti, in coerenza con le suddette motivazioni anche per l'anno 2022 con la DGR 684 del luglio scorso Regione Liguria, oltre al finanziamento di 90 mila euro, quindi di quello già aumentato rispetto allo storico, ha ritenuto opportuno concedere un ulteriore contributo, una tantum, di 54 mila euro. Pertanto la mozione in questione è stata assolta. Grazie Assessore Cavo. Non mi impegnare a una cosa che è stata già fatta dall'Aggiunta. Grazie Assessore Cavo. Correvole in quanto abbiamo già assolto all'impegnativa, tengo a precisare, per cui io ritengo che sia sostanzialmente superata in quanto assolta, non siamo contrari all'impegnativa in quanto abbiamo assolto a questa impegnativa. Grazie Assessore Cavo. Quindi chiedo se ci sono interventi di dichiarazione di voto, Consiglio Golini. Eccoci. In effetti la mozione risaliva circa un anno fa, quindi quando è stata depositata... Abbiamo già fatto quello che lei chiede, Consigliere, quindi... Io ritengo che la mozione sia superata, in quanto abbiamo già votato... Assessore, diamo la dichiarazione di voto al Consigliere Golini. Prego. Stavo dicendo questo, che la mozione risaliva un anno fa e lei ci ha portato a conoscenza di questi interventi, quindi praticamente la mozione è stata sì superata, ma è stata sono stati concessi questi finanziamenti un attanto, un alle varie associazioni. Sì. Quindi si può anche votare in maniera favorevole. Sì, sì, ma ha detto che è favorevole. Ah, ottimo. Favorevole. Cioè ci stiamo... Sarà il sistema... Chiedevo un'altra cosa alla Sessore, se posso avere copia della nota scritta. Chiedevo se posso avere copia della nota scritta. Io ho dichiarato che è superata questa mozione, per quello che mi riguarda. Sì, però se non si ritira... Allora, se non si ritira la mozione, se non si ritira la mozione, Assessore o si vota... Si vota. Va bene. E di ritirarla. All'Aggiunta ha chiesto il ritiro della mozione, questa è la proposta. Il proponente cosa risponde? Prego, consiglio Volini. No, è perfettamente in linea con quelli che erano gli obiettivi che poi sono stati raggiunti, quindi non vedo perché dovremmo ritirarla. La manteniamo in votazione. Sono le dichiarazioni di voto, se qualcuno vuole intervenire, a microfono, lo prego di... Se qualcuno... Consigliere Tosi. Sì, grazie Presidente. Ovviamente anch'io voterò a favore del testo presentato, ma ritengo che si potrebbe fare invece una bella cosa, e se chiaramente il mio collega è d'accordo, che tutti i capigruppo, i colleghi che vogliono, sottoscrivere il testo, visto l'obiettivo raggiunto. È una questione temporale, la mozione è stata depositata più di un anno fa, l'assessore ci ha riferito quanto è stato fatto, noi siamo d'accordo, non vedo per quale motivo il collega debba ritirare la mozione. Grazie.